è il filo chiuso mongolo ti entra qui dentro con il filo chiuso io lo so bene lo so bene ma dai ma dai ma che cazzo io lo so bene ma dai ma dai ma dai ma dai ma dunque i ma dai ma noon i tav sono in Grazie a tutti Grazie a tutti